Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Lorella Cuccarini, ospite del programma televisivo La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, ha raccontato i momenti più difficili della sua vita. La nota conduttrice e ballerina ha affrontato una brutta diagnosi sulla sua salute e ha vissuto il dolore della perdita improvvisa di sua madre scomparsa a soli 65 anni. Lorella Cuccarini ha confessato l'importanza fondamentale che sua madre aveva nella sua vita e il vuoto insostituibile che ha lasciato. La morte improvvisa della madre, avvenuta nel giro di soli tre giorni, ha colpito profondamente la conduttrice, che non ha avuto il tempo di prepararsi a quella terribile perdita. Tuttavia la presenza dei suoi due fratelli ha rappresentato un sostegno fondamentale in un momento così difficile. Il lutto per la perdita della madre è arrivato in un momento particolarmente delicato per Lorella Cuccarini, che aveva appena affrontato un intervento alla tiroide con esito incerto. Fortunatamente la salute della conduttrice non è stata compromessa. Inoltre, durante lo stesso periodo, Lorella si è trovata ad affrontare uno stop televisivo che ha messo a rischio la sua carriera. Nonostante il passare del tempo, il dolore per la perdita della madre è ancora vivo nel cuore di Lorella Cuccarini. La conduttrice ha dimostrato grande forza e resilienza nel superare momenti così difficili, trovando conforto nell'affetto dei suoi familiari e nell'affetto dei suoi familiari.